Buonasera, identificato e denunciato dalla polizia di Sassuolo, l'uomo che aveva tentato di rubare all'interno di un centro massaggi di via Braida. Si tratta di un giovane di origine marocchine, incensurato e residente in città. Decisive alcune testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ora gli agenti stanno indagando per capire se l'uomo si è reso responsabile di altri furti negli ultimi giorni. Importante riconoscimento per la Compagnia del Montale, acetaglia sassolese con sede in via Cialdini. I due soci, Enrico Zini e Francesco Bertoli, hanno vinto, per il terzo anno consecutivo, il Superior Taste Award con l'aceto balsamico di Modena IGP Vigna d'Oro. Il riconoscimento è stato assegnato a Bruxelles dall'International Taste and Quality. Ai Sassolesi è stato assegnato anche il premio speciale Crystal Award per il punteggio pieno e la triplice vittoria consecutiva. Stamattina il riconoscimento è stato festeggiato insieme allo chef Luca Marchini. Ascontiamo l'intervista ad Enrico Zini. Enrico, ormai avete fatto Tris, un premio che dà un riconoscimento importante all'Italia, all'aceto balsamico e a Sassuolo. Esatto, siamo molto orgogliosi di poter dire che abbiamo ricevuto per tre volte questo premio importante internazionale e questa è la dimostrazione della costanza e della qualità nel nostro aceto balsamico di Modena, in questo caso Vigna Oro si chiama. Un premio che ripaga dalle fatiche anche di tenere su un'azienda che non è produttrice di aceto a livello industriale ma a livello molto artigianale che però raggiunge tutto il mondo. Esatto, questo è anche un mezzo che utilizziamo per andare verso l'estero e dimostrare che le nostre produzioni sono di qualità superiore alla media e appunto grazie a questi premi e riconoscimenti riusciamo a comunicarlo in modo un po' più semplice. Viene subito l'idea di fare un paragone con le piastrelle, le più belle e le più innovative a livello internazionale e qui l'aceto va veramente in tutto il mondo. Siete appena tornati dalla Thailandia dove anche lì avete trovato terreno fertile. Certo, ormai siamo presenti in quasi tutti i continenti, manchiamo in Africa ma prevalentemente siamo dappertutto. Ovviamente non si fanno i numeri delle piastrelle perché una bottiglia di aceto balsamico si apre oggi e poi non si consuma in un attimo ma ci vuole un po' di tempo però siamo contenti, siamo in continua crescita soprattutto sull'export. Il sindaco Claudio Pistoni fa gli auguri ai circa 700 studenti che da domani affronteranno gli esami di maturità. Si tratta, detto il sindaco, di uno dei momenti più importanti nella vita di un ragazzo, un traguardo che al tempo stesso apre le porte ad un mondo che mi auguro sia pieno di soddisfazioni. Auguro agli studenti, conclude Pistoni, di affrontare l'esame con la giusta consapevolezza dei propri mezzi e con serenità. L'in bocca al lupo, infine, arriva ai giovani da tutta l'amministrazione comunale. Lunedì alle 20.30 torna la grande danza al Teatro Carani, protagonista la scuola Sound Dance che propone uno spettacolo diviso in due parti. Nella prima spazio ai ritmi latini con son cubano, nella seconda il tema sarà invece il film La vita è bella. Le coreografie sono curate da Massimo Lepore, Maurizio Salvarani, Chiara Giordano, Francesco Morselli e Raul Saucelli. Per ulteriori informazioni sullo spettacolo e i biglietti, contattare la scuola allo 0536 80 2103 o via mail all'indirizzo infochiocciola sounddanceclub.it La scuola è anche su Facebook, alla pagina Sound Dance semplicemente danza. Passiamo allo sport. Continuano a stupire i giovani ciclisti del baby team Jakobike. I giovanissimi hanno ben figurato ai campionati regionali fuoristrada di Campogagliano. Mebrà Tufognani ha portato a casa il titolo di campione regionale nella categoria G5. Terzo posto nella G5 femminile per Ilaria Cuppone. Quarta piazza nella stessa categoria per Erika Orlandi. Quinto posto per Alex Fratti nella G1 maschile. Nonno posto per Manuel Mutolo e Lorenzo Carafa nelle rispettive categorie. Gli esordienti invece hanno corso a Trento con Flavio Cuppone che ha vinto in volata. Mattia Toni invece ha concluso insieme al gruppo. Altro impegno per gli esordienti a Cento dove Cuppone è arrivato sesto e Toni quindicesimo. Grazie per essere stati con noi. Per oggi è tutto. Arrivederci a domani. Grazie per aver guardato il video.